Al via dal 2 al 3 dicembre alla città della scienza la rassegna promossa in collaborazione con Anikav, l'associazione nazionale degli industriali delle conserve vegetali e dedicata al pomodoro in tutte le sue forme. Un omaggio ad Edoardo De Filippo, una mostra dedicata alla storia e alla sostenibilità del pomodoro e alla prima edizione del ragù più grande del mondo. Un viaggio nell'epopea del pomodoro tra storia, sostenibilità ed arte. Questo sarà Pomodoreide, la rassegna dedicata all'oro rosso che venerdì 2 e sabato 3 dicembre si svolgerà a città della scienza di Napoli. La manifestazione promossa e organizzata in collaborazione con Anikav, la più grande associazione di rappresentanza delle imprese di trasformazione del pomodoro al mondo, ricrea il consorzio nazionale per il riciclo e recupero degli imballaggi in acciaio. Federconsumatori e CNR prevede due giornate di didattica, laboratori, spettacolo, arte, musica e degustazioni guidate dedicate al re della cucina napoletana, ovvero il pomodoro. Pomodoreide è il racconto dell'epopea del pomodoro, di questo immigrato di 5 secoli fa che poi si è guadagnato la prima scena e oggi, chi l'avrebbe detto 5 secoli fa, parlare di Napoli e d'Italia senza pomodoro sarebbe un non senso. Il 2 dicembre l'Associazione Nazionale dei Conservieri che ha proprio a Napoli, in Campania, la propria sede principale industriali di Confindustria che trasformano il pomodoro, terrà la sua assemblea nazionale qui a città della scienza e insieme a loro abbiamo promosso pomodoreide e il 3 dicembre realizzeremo il ragù più grande del mondo. Dalle 9 e mezza del mattino si accenderà il fuoco sotto una pentola di 4 quintali, 400 litri e lungo tutta la giornata di cottura di questo ragù che sarà realizzato dagli studenti e dagli insegnanti del Duca di Buonvicino racconteremo il pomodoro, la sua storia, le proprietà, le virtù nutritive, racconteremo i personaggi che si sono cimentati col pomodoro nell'arte e nella letteratura, ricorderemo Edoardo De Filippo, Luca De Filippo, quindi avremo anche teatro, musica e alla fine di questa kermesse, di questa grande giornata alle 17.30, dopo aver fatto il ragù più grande del mondo faremo la scarpetta più grande del mondo e invitiamo quindi tutti coloro che vogliono trascorrere con noi questa bellissima giornata, questo inno al pomodoro, alla nostra straordinaria eccellenza delle nostre terre, di farlo con noi, ingresso libero, saremo contenti di vivere questi momenti insieme a voi.